Grazie Andiamo Calmo Giovanna, forza Ok Ok Vai Giovanna, vai Bravo, forza Buona, bravo Giovanni Grazie 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 Calmo Bravo Dai Oh vai Forza Giovanni Dai Buona Bravo Buona Vai No Sì Non fa niente Bravo Bravo Ho fatto bene Grazie 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 Bravo 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 Grazie 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 Tempo 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 come on che ti sei 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 guarda guarda Bona, vai! Bona, vai così! Eh, vabbè, ma... Eh, beh, scusate, che punto è questo qua? Perché dove ne ha fatto? No, non ho capito, però mentre sta battendo non si può fermare, è con tutta la buona volontà. Allora, in realtà è lui che dovrebbe vedere il seguito e tutti. Mi sembra che stava proprio dall'alto... Se non ci stava... Non è che ha trovato la scusa che non voglio studiare. Stava là, lo vuoi? Te lo diamo? No, 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 ma non è così che si ragiona, comunque. Allora, è vero che lui può prendere, però quando si ha la battuta, la chiama prima. Va bene, va? Ok. Allora, se c'è la racchetta e il nonno, sta battendo. Scusate, ma più gli altri punti che devo fare... Ma non devo scusare la scusa. Io ti sto dicendo che prendi la scusa, ma non voglio la racchetta e prendi la scusa. Ma racchetta e il nonno, dici, no, aspetta che... Non va. Scusate, ma... No, non c'è la racchetta. Ma non c'è la racchetta. Signora, non c'è la racchetta. Non c'è la racchetta! No, no, no! Non c'è la racchetta. Calmo Giovan, calmo. 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 Calmo Giovan. Calmo Giovan. Calmo Giovan. Grazie a tutti.